fascisti. Siamo qui per dire quello che le associazioni di Ponte San Giovanni hanno scritto nei giorni scorsi, che Ponte San Giovanni e Perugia democratiche non vogliono i fascisti, non vogliono che la marmaglia fascista possa sfilare impunemente con degli slogan rassisti, xenofobi, vergognosi, che negano il senso dell'umanità, che negano i diritti umani. Non li vogliamo e vogliamo richiamare alla loro responsabilità la questura di Ponte San Giovanni, ma anche i vertici politici, a cominciare dal Ministero dell'Interno, che devono dare direttive chiare. Ci sono leggi che violano la propaganda fascista, che violano l'apologia del fascismo, la ricostituzione di organismi fascisti. Quelle leggi devono essere applicate e devono essere applicate fino in fondo, senza sconti di nessun tipo.